Un po' di chiarezza definitivamente sul progetto del deposito del gas di Rivara per capire e per appunto dissolvere poi tutti i dubbi e le preoccupazioni delle popolazioni che vivono in quel territorio. Allora, sul deposito del gas di Rivara la Regione è stata chiara da sempre. È sempre stata contraria. Contraria all'Assemblea Legislativa regionale con più atti dal 2009 ad oggi, contraria all'Aggiunta regionale con più atti, non esiste il tema nel piano energetico regionale, non esiste il tema per l'Emilia-Romagna. Noi abbiamo detto anche con l'ultimo atto di aprile no al deposito in acquifero del campo di Rivara. Abbiamo incontrato tutti e abbiamo detto un no ineccepibile. Ora il Governo ha iniziato a capire la volontà del sistema dell'Emilia-Romagna che non voleva quell'impianto perché è rischioso, perché non c'erano i principi di precauzione, perché avevamo sempre dubbi sismici. Questo drammaticamente purtroppo dobbiamo prendere atto che avevamo ragione. Mi dispiace perché ci sono delle comunità che stanno soffrendo drammaticamente, ma è ora di prendere atto che anche il Governo ci sta ripensando. Un primo atto operativo lo ha fatto. Noi non abbiamo mai autorizzato nessuno a fare ricerche o a fare azioni sul territorio. E in modo inequivocabile dico che noi non abbiamo autorizzato nulla. Neanche il Governo risulta ad oggi, perché oggi il Governo ha detto no, noi non daremo nessuna intesa a questo progetto.